La proprietà dell'area Ex Lebole vuole accelerare e così il Consiglio Comunale si riunisce in pieno agosto e dà il via libera alla variante al piano di recupero dell'area all'interno della cosiddetta cittadella degli affari. L'area Ex Lebole è tornata protagonista del dibattito che ha visto la pratica approvata con 18 voti favorevoli e 4 astenuti alla proposta di delibera illustrata dal sindaco Alessandro Chinelli, incentrata soprattutto sulla questione viabilità. Questa sera si è adottata una variante richiesta dall'investitore, dalla famiglia Carrara, da R Immobiliare per essere più precisi, che prevede un ridimensionamento della parte edilizia che aumenta per la parte commerciale fino a 12.500 metri quadri, che era il tetto massimo concordato con le categorie economiche che lavorano nel commercio molti anni fa, rinunciando alla parte direzionale e turistico-ricettiva e realizzando invece un sistema infrastrutturale più pesante rispetto a quello che era stato originalmente previsto nella penultima seduta di Consiglio Comunale della precedente legislatura. Allora si era previsto di lasciare il raccordo a due corsie e basta, di metterlo interrato e di realizzare un sistema di svincolo più in posizione sopraelevata, ottenendo due risultati negativi il progetto di allora che oggi si sono corretti. Il primo è quello che andando sottoterra si perde completamente la percezione della nostra città che da quel punto di avvicinamento a una skyline, che è esattamente quella che ha dipinto Piero della Francesca in San Francesco e che è relativa non al raccordo Arezzo-Valtifolle ma a via Fiorentina, proveniendo da Firenze verso Arezzo, ma con un'angolazione molto simile. E quindi mettendo le quattro corsie in alto, questa percezione rimane per lungo tempo, proprio finché non si arriva sulla tangenziale. L'altra è proprio il fatto che non sono due corsie interrate, che sarebbe stato quasi impossibile domani allargare, ma sono già oggi quattro. Quindi si fa il primo pezzo di raccordo a quattro corsie per dare un po' anche il là all'ANAS per fare gli altri otto chilometri fino a Battifolle. Quindi un sistema infrastrutturale importante che serve in parte per servire il centro commerciale quando i clienti andranno a fare i loro acquisti, ma anche al centro affari. Quindi anche questo sistema di strada sopraelevata ma attraversata da passaggi pedonali serve a mettere in contatto e in comunicazione il parcheggio del centro affari con quello che sarà il nuovo parcheggio del centro commerciale.